Ancora una giornata di manifestazioni per gli studenti dell'albeghiero di Pescara e contro il trasferimento con annesso accorpamento all'Istituto Agrario a Villareia di Cepagatti. Questa mattina assieme ai ragazzi del Dececco hanno sfilato anche gli studenti delle altre scuole cittadine con un corteo che da Piazza della Rinascita si è concluso a Piazza Italia. Noi abbiamo chiesto il supporto delle altre scuole perché la dichiarazione dell'assessore davanti a noi studenti il primo giorno è stata tra un anno o due chiudo tutte le scuole di Pescara per fare un'era metropolitana. Noi da lì allora abbiamo chiesto il supporto delle altre scuole per far capire che anche le altre scuole non stanno a guardare le varie chiusure delle loro scuole o l'insofferenza dell'alberghiero. Siamo in una situazione disastrosa e noi vogliamo e chiediamo a gran voce, penso che adesso gli sia arrivato, che ci diano i laboratori la sede unica e che nel frattempo che loro fanno i lavori per risistemarci i laboratori ci diano altri laboratori e altre strutture per poter far studiare i nostri ragazzi e lo dico anche a nome dei professori. A metà mattinata poi il presidente della provincia Antonio Di Marco ha ricevuto una delegazione di studenti dando la massima disponibilità dell'ente alla condivisione delle decisioni da prendere. Il fatto stesso che poi la giunta regionale abbia voluto in qualche misura coinvolgere anche nella stesura della delibera questi due istituti mette nella condizione della provincia di dover avviare una riflessione anche concertata con la regione ed è per questo che io oggi stesso ho proposto di attivare un osservatorio fatto di genitori, fatto di ragazzi, fatti del corpo docente chiaramente e noi come provincia chiederò al governatore un incontro tra domani e lunedì. Io ho anche la possibilità in questo momento di rassicurare i ragazzi rispetto alla necessità di intervenire sui laboratori che sono stati oggetto di verifica da parte dei competenti organi della ASL e legittimamente loro hanno bisogno di fare laboratorio e per questo attiveremo una procedura d'urgenza che consentirà loro di sopperire ai laboratori che attualmente non sono fruibili a Via Tirino. Allo stesso tempo stanno per partire i lavori che riguardano i 145 mila euro messi a disposizione della regione nel plesso A dove c'è stato il crollo e allo stesso modo tra dieci giorni avremo la certezza procedurale per riattivare i lavori della palestra.